Nuovo DPCM, stop a Movida ma scuole aperte, firmato al governo Conte per fronteggiare l'aumento esponenziale dei contagi nelle ultime settimane. Il nuovo decreto non ha aggiunto limitazioni significative alla libertà dei cittadini. Il coprifuoco tanto temuto si riduce alla chiusura di tutti i ristoranti, bar, pub, pizzerie e simili alle 24. Dovrà essere affisso un cartello all'ingresso in cui viene segnata la capienza del locale nel rispetto e la distanza di sicurezza fra ogni tavolo e posto a sedere. Qualunque esercizio non disponga di coperti dovrà chiudere alle 21. Tuttavia l'asporto resta consentito fino alle 24, una decisione che fa discutere. Se l'obiettivo era fermare la Movida, l'asporto potrebbe solo far spostare gli avventuri del locale per assembrarsi qualche metro più avanti. Sempre per frenare la Movida è stato affidato ai sindaci il potere di chiudere determinate strade o piazze del comune per bloccare zone altamente frequentate. Non vengono tuttavia fornite altre direttive su questa possibilità e non vengono posti i limiti entro cui i sindaci devono intervenire. Tutto è quindi lasciato alla piena discrezionalità dei primi cittadini. Altro punto nevrato, del DPCM è la scuola. Il governo ha confermato la scelta, più volte ribadita dalla ministra Zolina, di lasciare gli istituti aperti e consentire le lezioni in presenza. Tuttavia le scuole potranno adattarsi alla situazione epidemiologica locale utilizzando la didattica a distanza o dividendo gli orari delle classi. Le lezioni potranno quindi essere spostate anche al pomeriggio per non creare assembramenti fra gli alunni di varie classi. In ogni caso, questo vale solo per gli istituti superiori, mentre per tutti gli altri resta invariata la didattica in presenza tradizionale. Le disposizioni riguardanti la scuola entreranno in vigore a mercoledì 21 ottobre, dando così tempo utile agli istituti per organizzarsi. Non è chiaro se in questo periodo la campania si edeguerà a quanto disposto al decreto o si continuerà con la didattica a distanza obbligatoria decisa dal presidente Eluca con l'ordinanza di giovedì scorso. Vietati sport da contatto a livello direttantistico ed amatoriale. Per le palestre invece restano dubbi. Il premier ha evidenziato che mentre alcuni centri sportivi rispettano tutte le direttive anticontagio, altri agiscono in modo sconsiderato. Pertanto lo stesso Conte ha dato un ultimatum. Daremo una settimana per adeguare i protocolli di sicurezza e per verificarne il rispetto. Se questo avverrà ovviamente con il coinvolgimento anche del competente giudizio del comitato tecnico scientifico non ci sarà ragione di sospendere e di chiudere le palestre. Altrimenti la settimana prossima lo preannuncio con molta chiarezza saremo costretti a sospendere anche l'attività sportiva che si svolge al chiuso nelle palestre e nelle piscine. Restano vietate feste di paese sagre ma si consentono le grandi fiene nazionali. Una decisione necessaria per favorire il rilancio dell'economia. Ed è proprio il compromesso fra economia e salute che sembra caratterizzare tutto il nuovo DPCM. Lo stesso Premier ha esordito nella conferenza stampa di ieri parlando della gravità della situazione epidemiologica ma evidenziando la ripartenza economica del paese e spiegando che un nuovo lockdown avrebbe fermato questo dato positivo. Dobbiamo agire mettendo in campo tutte le misure necessarie a scongiurare un nuovo lockdown generalizzato. Il paese non può permettersi una nuova battuta d'arresto che finirebbe per compromettere severamente l'intero tessuto economico.